buonasera a tutte mettiamo la sera che le parole che vengono dal cuore entrano nel cuore e perché insisto su questa frase è un po molto ma è importante per me perché non si può condividere qualcosa che abbiamo imparato e che abbiamo più o meno assimilato senza una vera passione di quello che si sta facendo nessuno nessuna persona che condivide qualche cosa qualche concetto qualche idea e può veramente trasmettere quello che vuole trasmettere se dentro non ha una certa passione una certa convinzione una certa aver digerito un attimino quello che sta per dire e per quindi quello che viene dal cuore quello che dall'intelletto è sceso dal cuore passa al cuore e quei concetti che sono chiari perché li ho digeriti perché li ho fatti mie perché nel mio nel mio livello di comprensione cerco di condividerlo di condividere questo di questo studio quindi tutto quello che in realtà in qualche modo sono riuscita più o meno masterizzare nelle miei nel mio cuore quindi tutto lo studio che ho fatto che ha fatto trasformare in anche emozioni allora questo che in realtà sto cercando di di trasmettere perché così come dopo anni e anni di studio Italia qualcosina si è mosso non tantissimo ma qualcosina si è mosso speriamo di più e questo è quello che posso trasmettere perché diciamo la parte teorica arida non la posso trasmettere perché non ripeto neanche a memoria quello che posso trasmettere è quella parte del lavoro di processo che qualche modo sento che ha fatto un cambiamento dentro di me e questo ha a che fare un po' con la base abbiamo detto di lo studio di Tania quella famosa frase che è alla base dell'inizio del test in cui la Dura Zaken si riporta la famosa frase mi alzo e lo faccio esempio esempio banale quando ho preso ho deciso di fare la Nettilatia Dime alla mità ma non ogni tanto lo facevo ma non esattamente attaccato al letto a un certo punto ho deciso di farlo attaccato al letto e quindi con la bacinella il cli a un certo punto mi sono detto perché voglio fare questa cosa quindi me lo mettevo lì davanti alla porta in modo che mi ricordassi di riempire il cli prima di andare a dormire con l'asciugamano perché perché da qualche parte l'avevo studiato l'avevo sentito migliaia di volte ma a un certo punto questo sentirlo migliaia di volte ha avuto un effetto su di me questo effetto ha fatto sì che io avessi una volontà di farlo questa volontà di farlo ha portato sia al fatto che mi è stato regalato la bacinella e il cli ma di prenderlo di metterlo sotto il letto con l'acqua e di assicurarmi di farlo il quanto più possibile in modo corretto questo è quello che abbiamo studiato anche un po' la volta scorsa questa sera studiamo siamo invece nel capitolo 20 capitolo 20 di nuovo riparte quello stesso concetto quella cosa è molto vicina a noi ma se la cosa è tanto vicina a noi cosa è molto vicina a noi l'amore e il timore per Akadosh Baruch Hu è un sentimento non solo un sentimento è un'essenza è un'essenza dentro di noi è il nostro DNA la domanda è se questo amore e timore di Akadosh Baruch Hu perché non siamo tutti a ballare cantare correre dietro alle mitzvot positive e aver timore nel compiere le mitzvot negative di rispettare le mitzvot negative una per fare una per non fare chiaramente ci sono delle mitzvot che io devo fare e delle mitzvot che io non devo fare quindi l'amore l'esuberanza chiamiamola così mi porta a fare le mitzvot il rigore mi porta a controllarmi di non fare quello che non devo fare io posso amare tantissimo tutti quanti ma devo sapere chi posso amare e chi non posso amare c'è un limite a quello che è il concetto di amore e quello che devo farne col mio amore cosa ne faccio del mio amore per il prossimo se non sono capace a gestirlo e entro in un reame che non è corretto e contro la decenza contro la moralità eccetera quindi la domanda che ritorna è se è vero che dentro di noi tutti quanti abbiamo questa avat batanugim no scusate avat batanugim è questa amore che dà questo grande senso di benessere avat misuteret un avat un amore nascosto perché un amore nascosto perché è un amore che salta fuori purtroppo solo in casi di di prova di challenge e lo vediamo l'abbiamo visto oggi leggendo le 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 notizie purtroppo ho notito ho letto un piccolo trafiletto di un padre di uno di questi soldati purtroppo ingegneri soldato ingegneri che ha mancato si era appena laureato in ingegneria elettronica meccanica se non mi ricordo era tornato a casa per shabbat si lamentava con i genitori o col padre che questa guerra stava durando troppo il padre gli disse rimani a casa e gli dice no non posso chi fa questa guerra se non me evidentemente era specializzato in qualche cosa che non ha nessun altro poteva fare ed è ritornato al fronte ed è mancato che che cosa vuol dire vuol dire che dentro di sé per quanto avesse una buona dose di scetticismo di stanchezza che ha condiviso anche con la sua famiglia il senso di responsabilità di amore per amistrael fa sì che benché abbia tutti questi sentimenti prende il suo sacco e ritorna al fronte quindi dentro di noi abbiamo tutti un amore si chiama ava mesutere che è un amore nascosto e che salta fuori non solo con quelle persone che hanno abitudine di trattare lo studiato orà o di fare le mitzvote o di vivere una vita ebraica ma soprattutto salta fuori in caso di crisi tra virgolette in coloro che con l'ebrismo nella quotidianità hanno poco a che fare e magari anche una buona dose di criticità su quello che vedono quello che sentono però succede qualcosa di particolare salta fuori la loro ebraicità il loro attaccamento ad Hashem e al popolo ebraico e anche se c'è un pericolo e anche se sono da solo contro tutti l'ebracità, il loro essere ebreo salta fuori in modo molto molto forte a rispetto del pericolo, a rispetto del fatto di essere magari soli perché non è, non si può, perché non è capace a rinnegare la propria ebrecità in quel momento di crisi e quindi abbiamo visto dei professori universitari ebrei assolutamente laici magari assolutamente critici che quando è successo quello che è successo e le manifestazioni che negano l'ovvietà e il rispetto della vita umana si sono tenuti, si sono sentiti ovviamente calpestati e da soli hanno protestato davanti a tutti nei campus universitari mettendo nel repertaglio la loro carriera, la loro visione tutto quello che hanno magari criticato fino a un momento prima ma nel momento in cui vengono attaccati, si sentono attaccati nella loro identità ebraica perché viene attaccato il popolo ebraico allora gli scatta qualcosa e viene fuori in modo molto 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 forte questa è quella che si chiama Ava Misutere e che ogni ebreo ha dentro di sé e che è un amore, chiamalo così, di sopravvivenza che ha fatto sì che il popolo ebraico oggi è qui nella promessa che Hashem ha fatto ad Avraham questo è un amore che abbiamo ereditato dai patriarchi probabilmente proprio perché i patriarchi si sono dati così tanto che Hashem poi ha promesso l'eternità del popolo ebraico e quindi dentro di noi abbiamo questa forza che si scatena nei momenti di criticità non abbiamo bisogno di raccontare quello che è successo a Purim il miracolo di Purim il miracolo di Purim dove c'era un potenziale un editto non era un potenziale un editto che a Hashem non ha cambiato contro il popolo ebraico ha semplicemente aggiunto l'opportunità che il popolo ebraico si potesse difendere questo è l'editto che è stato aggiunto per bilanciare l'editto di Aman il miracolo di Purim che noi festeggiamo a Purim è che in tutto l'anno tra l'editto di Aman e il famoso banchetto di Esther e poi quando viene mandato il 23 di Sivan la contro la controlegge che dice che gli ebrei si possono difendere da quel momento fino a Purim dove c'è stata poi la battaglia tra virgolette la guerra civile nessun ebreo ha lasciato la propria ebrecità perché l'editto di Achashverosh scritto da Aman era contro tutti gli ebrei che si identificavano nell'ebrismo se uno non si identificava nell'ebrismo che metteva nella carta di identità qualcos'altro non veniva attaccato e nessun ebreo in tutto quel periodo si è sognato di riparare fare il marrano nessuno e questo ha portato il miracolo di Purim dove gli ebrei si sono difesi nel giorno del 13 di Adar che noi festeggiamo come il digiuno di Esther perché di fatto è stata sola Esther a digiunare e tutti hanno si sono difesi in casa la signora si è difesa in casa con il coltello questo è la verità quello che è successo a Purim e generazione dopo generazione pensiamo alle comunità ebreiche nel comunismo pensiamo alle comunità ebreiche scacciate dai paesiari nella storia del popolo ebraico questa è la vota che permette al popolo ebraico di continuare adesso nasce spontanea una domanda se dentro di noi abbiamo questo amore così forte così assoluto che ci permette di andare avanti con tanta ovvietà nei momenti di crisi perché questo amore non brilla nella mia quotidianità in modo così forte da far massimizzare le mie azioni dei miei mitzvot se positive che negative perché no perché deve scatenarsi solo nei momenti di crisi dove viene messa a repentaglio la mia identità e allora in questo capitolo 20 la Dura Saken nei vari passaggi da giorno in giorno analizza un po' quella che è la realtà del mondo in modo tale che riflettendo su questi concetti ci viene più facile ricordarci chi è Kadosh Baruch Hu e chi siamo noi e quindi risvegliare questo sentimento di Avame Suteret in modo che sia presente nella nostra quotidianità e mi aiuti giorno per giorno a rinforzarmi nel mio percorso di ebrea e che non debba essere solo necessario nei momenti di crisi questo amore messuteret abbiamo detto questo amore di nascosto che poi salta fuori ha il potere di far sì che c'è la volontà di sacrificio personale ed è questa forza che ispira ogni ebreo ogni ebreo arriva ad avere un amore che dice io mi sacrifico non sono disposta a lasciare il mio rapporto con Kadosh Baruch Hu bar il popolo ebraico perché è un tutt'uno e quindi uno si sacrifica il Rebbe chiarisce che il sacrificio dei nostri giorni dopo la Shoah in realtà è un sacrificio che è quotidiano il sacrificio non viene più a essere che viene richiesto al popolo ebraico non è un sacrificio di morire ma di vivere secondo l'ebreismo e quindi se per me è difficile vivere una vita di Torah e Mitzvot perché ancora mi devo raffinare perché ancora mi devo avvicinare perché ancora non assaporo il che è tipico del Tzadik ci devo ancora arrivare se Dio vuole decide di prendere su di me delle Mitzvot è un sacrificio personale che va contro tutto quello che il mondo mi grida quindi la nostra generazione la generazione purtroppo nei nostri giorni si è andato fuori di nuovo il sacrificio personale nel morire ma non dovrebbe essere così è assolutamente strano che stia succedendo non dovrebbe essere nei nostri giorni dovremmo essere solo esclusivamente concentrati nel Mitzvot Nefesh sacrificio personale nel vivere l'ebrismo quindi dobbiamo porci una domanda perché sta succedendo qualcosa che sta succedendo perché ci sono degli ebrei che si devono sacrificare devono sacrificare la loro vita per ricordarmi l'importanza di essere ebreo forse devo ingaggiarmi ancora di più in quello che è il mio sacrificio personale nella mia quotidianità della vita ebraica io e ognuno di noi ognuno ha il suo percorso personale perché se io sono qua è perché tutto il mondo non poteva esserci se non ci sono se non per me quindi nel capitolo 20 che adesso vediamo un attimino velocemente riprende innanzitutto il concetto di unità di Akadosh Baruch Hu cominciano a un concetto molto basico basico non così tanto abbiamo detto che i dieci comandamenti noi lo siamo leggendo anche nella parciata Shevua qual è il concetto gli ebrei escono dall'Egitto tutti dritti verso Arsinai per ricevere la Torah questo è la matera questo è lo scopo il nostro scopo in questi giorni è tutti dritti verso la Geula non dobbiamo confonderci quello che sta succedendo dritti verso la meta qual è la meta? la rivelazione divina Arsinai la rivelazione divina Arsinai il merito di questa rivelazione fa sì che il Giam Suf si apre che anche se arriviamo con l'acqua alla gola a un certo punto si apre il mare è quello che dobbiamo vivere nei nostri giorni andare dritti verso la meta qual è la meta? accogliere il Mashant Zitkeno chiedere il Mashant Zitkeno e accogliere il Mashant Zitkeno punto dice perché cosa è successo con Matantorah noi ci ricordiamo che i primi due comandamenti li ha detto Akadosh Baruch Hu con una conseguente continua incapacità del popolo ebraico di ricevere tanta rivelazione divina quindi la Neshama usciva rientrava usciva rientrava la Neshama non faceva che risuscitare tutto il popolo ebraico e c'era questa specie di ginnastica chiamiamola così finché a un certo punto dopo i due primi comandamenti il popolo ebraico ha detto a Moshera Beno non riusciamo a sopportare così tanta rivelazione divina dici tu gli altri perché i primi due li ha dovuti dire Akadosh Baruch Hu per forza chiaramente Moshera Beno non poteva dire Anokhi Hashem Lokecha doveva venire Akadosh Baruch Hu inoltre noi sappiamo che tutti i dieci comandamenti contengono dentro di sé tutte le 613 Mitzot ma in più i primi due il primo di Amare Hashem Anokhi Hashem Lokecha quindi sulla positività Amare Karosh Baruch Hu e il secondo che non avere degli idoli quindi il primo comandamento è positivo nel fare le Mitzot il secondo comandamento si riferisce alle Mitzot negative quando Hashem nel dire queste due Mitzot ha ingettato dentro di noi amore e timore per l'eternità nel fare le Mitzot e per timore delle Mitzot quindi tutta la Torah ci è stata passata da Karosh Baruch Hu stesso dopodiché Moshe Rabbeinu la chiamano così a Fisarmonica l'ha esteso ma i concetti principali sono stati dati da Karosh Baruch Hu stesso perché non poteva essere altrimenti e non è un evento qual è la particolarità del popolo ebraico che non è un evento che ha vissuto un solo profeta in una caverna ma che hanno vissuto più di 3 milioni di persone è un miracolo collettivo c'è una testimonianza collettiva di tutti non solo il popolo ebraico ma anche tutti gli egiziani che erano usciti anche tutti gli erevravi tutti quegli altre persone che erano usciti col popolo ebraico hanno vissuto una rivelazione divina che nessun profeta ha vissuto più tardi quindi abbiamo 248 mitzvot positive e 365 mitzvot negative contenute in questi due primi comandamenti quindi abbiamo sentito tutti noi perché si dice che tutte le medesciamotte erano presenti a Arsinai abbiamo tutti sentito i due comandamenti e la Dumuraz Ken va avanti nel concetto di unicità di Akarosh Baruch Hu anche a Shem è tutto Rav Gordman canta questa canzoncina Hashem è qua e qua e là e da tutte le parti cioè non c'è cosa nel mondo che è al di fuori di Akarosh Baruch Hu è tutto Akarosh Baruch Hu e noi dobbiamo riforzarci nel contemplare questo concetto quando noi ci rinforziamo di contemplare l'unicità di Akarosh Baruch Hu Yachid Ume Yuchad Hashem non è cambiato prima della creazione o dopo la creazione questo lo diciamo anche la mattina nella Tefilah le primattissime cose che diciamo nella Tefilah adesso non mi ricordo dov'è chiaramente che Hashem non è cambiato nel creare il mondo e questo concetto fa sì tutto quello che diciamo è legato a questo concetto di aver ricevuto il concetto che Hashem non cambia questo lo diciamo la mattina nel Tefilah l'essenza di Akarosh Baruch Hu non cambia prima di aver creato il mondo di aver creato il mondo Hashem decide di creare il mondo ogni istante in ogni istante quindi mentre la nostra mente razionale si lega a un mondo di creato in realtà tutto questo mondo ha a che fare con Akarosh Baruch Hu e la totalità di Akarosh Baruch Hu anche la situazione in cui stiamo trovando oggi anche la negatività quello che sta succedendo che Hashem vuole che ci sia una separazione di male e di bene che si è mescolato al tempo di Adam e Chava così come era prima che creasse il mondo quindi qual è tutto il concetto che stiamo spiegando in questo paragrafo e dire sederci un momento e dire ma Hashem c'è tutto quindi non c'è strategia non c'è la mia strategia della simpaticona della mattina no no non è strategia con semplicità perché Hashem è tutto prima che creasse il mondo prima che creasse me e dopo che creasse me anche dopo che ci sarò io quindi il tutto ha a che fare con la mia come faccio a rinforzare il mio Ava Misuteret anche nella mia quotidianità e ricordarmi che è tutto Akarosh Baruch Hu e quindi è inutile pianificare le mie strategie siamo in un mondo di masse siamo in un mondo di azione quindi chiaro io devo essere presente devo fare quello che devo fare ma io faccio quello che è in linea con la volontà di Hashem perché sennò che senso ha vado controcorrente perché tutto il mondo tutto il creato viaggia secondo la forza di Akarosh Baruch Hu per questo che il bene vince sempre il bene vince sempre noi possiamo pensare un sacco di cose ma alla fine la volontà di Hashem che viene fuori la domanda è se mi sono messa a fare a partecipare in questo progetto Hashem ci dà l'opportunità di essere partecipi perché questo mondo e anche i mondi superiori e tutto questo universo in espansione senza nominare tutte le stelle le galassie eccetera eccetera non cambia una virgola nell'unità di Akarosh Baruch Hu da uno stato di nullità no? questo è un stato di nullità perché il fatto è che noi non sappiamo definire Akarosh Baruch Hu quindi per noi è Me Ain lei esce da quello che era il nulla a quello che noi sappiamo che deve essere la Kupataka il muro la sedia eccetera perché parliamo del nulla con quello che c'è perché noi non sappiamo definire Akarosh Baruch Hu nella sua totalità non possiamo percepirlo così come Hashem era da solo e singolo e unico e totale prima lo ha anche dopo quindi io voglio fare della mia vita e delle mie azioni qualcosa che va in linea con tutto il creato ed è per questo che ho bisogno di studiare la Torah per sapere che cosa Hashem vuole dove se io voglio sono un treno e voglio viaggiare sulle rotaie della volontà di Hashem per forza devo studiare la Torah perché sennò non so dove andare sbando perché la Torah è l'ABC è tutto è tutto il DNA del mondo voglio sapere come funziona questo mondo studio Torah e a un certo punto comincio a capire meglio come funziona il mondo ma se io mi collego con l'unicità questo concetto di unicità di Hashem automaticamente il mio pensiero va a unirmi con la volontà di Hashem e non fa special ma andare contro perché io non voglio andare contro non voglio sia a livello di intelligenza e di sentimenti non posso fare qualcosa che è contrario alla volontà di Akarosh Baruch Hu infatti si dice che se una persona fa un peccato è perché ha avuto i famosi cinque minuti ha avuto un momento di follia perché solo una persona che ha un momento di follia vuol dire che si disconnette con la forza che lo vitalizza un momento di follia che può durare ogni tanto un po' più di tempo ma è una follia perché si taglia il rapporto con l'origine della nostra vitalità invece noi vogliamo essere vitali quindi quanto più io contemplo su questo concetto quanto più io voglio essere vicino alla sorgente di tutto di tutto quello che c'è essere in linea col creato e quindi voglio capire che cosa vuol dire fare le mitzvot perché se faccio le mitzvot io santifico il creato se faccio qualcosa che è contro la volontà di Hashem faccio dei bei taglioni in tutto quello che è l'essenza di questo mondo e poi devo rimetterla a posto ma questo è il concetto anche del balciuva che si rende conto di quello che ha fatto e investe extra energia per mettere una toppa per ricamare per rinforzare quello che è stato rotto e allora lì dove c'è una toppa molto probabilmente non si strapperà più questo è l'inizio il concetto della totalità di Akronosh Barokhu e come facciamo a concentrarci ricordiamoci che ci sono cinque livelli intelletto emozioni pensiero parola e azione sono cinque livelli fondamentali di quello che è il mio essere cioè l'intelletto molto astratto che produce delle emozioni che produce dei pensieri comincio a dare parola ai miei pensieri ognuno secondo la sua lingua chiaramente noi pensiamo secondo la nostra lingua questo pensiero comincia a prendere forma lo comincia a canalare in quello che è una frase e dopodiché scende in quello che è l'azione pensiamo migliaia di cose ne diciamo tantissime ma ne facciamo molto meno ma il concetto di intelletto emozione a un livello più alto e molto spesso l'intelletto e l'emozione non hanno un loro verbo una loro espressione devono prendere un'espressione nelle parole prima che ci si racconta nel pensiero che poi diventa più chiaro e poi possiamo dirlo con le parole e poi diventa un'azione quando cominciamo a dirlo diventa un'azione già diventa esterna a noi mentre con quando parla rimane un tutt'uno la parola di Hashem il famoso abracadabra che non è abracadabra di Aladino ma baracche di bra Hashem crea con la parola rimane un tutt'uno con la croce ed è per questo che le lettere della sona codice dell'alfabeto ebraico hanno una loro forza individuale non è solo una simbologia ma proprio è un'essenza che fa sì che la composizione di tre lettere Shul Han Shul Han non sono tre Shul Han Shul Han 5 fa il tavolo perché la lettera che paradossalmente crea la cosa perché Hashem attraverso la parola crea il mondo è un passaggio dentro di noi dai mondi in ogni passaggio sono questi dieci attributi è un passaggio forzato della energia che succede così non può essere altrimenti questi dieci attributi sono che sono quelli intellettuali poi sono quelli emozionali la parte diciamo più intellettuale abbiamo detto emozione e intelletto e emozioni poi scendono nel pensiero deve essere fatto è proprio questo passaggio di chiamano così di energie che poi finalmente sfociano in un canale che diventa il pensiero quindi a un certo punto sono capace a definire delle idee da qualche cosa confuso o un cucetto confuso a un certo punto diventa un pensiero chiaro e quello che spiega oggi l'admura saken i dieci attributi e poi andiamo avanti prima di vestirsi in quello che sono i vestiti cosa sono i vestiti pensiero parole azioni mancano una componente chiamano così letterale qualcosa di un po aleatorio devono essere vestiti quali sono i vestiti pensiero parola e azione come fanno a vestirsi cominciano a essere abbinati a delle lettere non sono più delle forze non è più un'energia ma comincia a prendere forma come per esempio come una persona che a un certo punto diventa cosciente di un certo amore e di un desiderio del cuore questo sentimento sale dal cuore all'intelletto al cervello per meditare e ponderarlo ho un sentimento che mi sale lo mando all'intelletto e comincio a formularlo perché mi hai detto intelletto emozione pensiero parola e azione quindi c'è intelletto che sfocia in un'emozione che mi fa parlare il cuore il cuore manda al pensiero dei segnali e dico cos'è questo cos'è questo sentimento che ho di cosa si tratta e cominciamo a analizzarlo quindi si medita su questo sentimento non ha ancora conquistato un elemento letterale è solo un desiderio e un sì un desiderio una voglia chiamalo così per l'oggetto della sua per l'oggetto del suo amore o per il questo desiderio chiamamolo così nel caso di questo amore si sveglia in modo fortissimo per al punto che una persona dice torno al mio ruolo di perché devo questo è quello che io devo fare e questo che dà la forza alle gambe di andare il pensiero la parola questa emozione che fa pensare no io devo tornare che fa dire al padre no io devo tornare che fa sì che a prendere il suo zaino è tornato quindi proprio dall'alto qualcosa di molto molto grande che scende in un'emozione e che poi fa sì che dal pensiero si costruisca la parola e l'azione ma all'inizio magari è una cosa così grande che non ha neanche parole non si è ancora vestito di parole di un concetto chiaro è un sentimento che non sappiamo definire per questo è molto importante anche studiare il Torah perché non non dobbiamo confonderci nell'essenza del nostro sentimento di confondere quello che è un sentimento che passa per il cuore un'emozione magari avati strel che viene un amore di avati strel che viene mal interpretato perché non abbiamo studiato e quindi ci confondiamo quindi studiare il Torah e in questo caso particolare studiare Tanya ma sì che riusciamo anche a interpretare bene correttamente le nostre emozioni e così di più prima che cominciasse a sentire il suo cuore e avere questo desiderio per questa cosa ok il desiderio cosa è il desiderio anche la volontà di qualcosa che vogliamo quando era ancora rilegato nel reame di Chokmah dell'intelletto e di Binah di capire e di Dat quindi nel livello intellettuale Chokmah Binah Dat scusate chokmah quindi c'è una volontà noi sappiamo che ogni cosa che noi facciamo dietro c'è una volontà e molto spesso la volontà è di solito la volontà una parte della volontà è una componente di piacere la Midah la Midah di Yesod la Midah di Yesod è la componente di piacere noi non facciamo qualcosa se non ci dà piacere non c'è niente da fare o abbiamo paura perché ci hanno puntato il fucile o abbiamo una componente di piacere ma quando noi facciamo di nostra volontà qualche cosa è perché dietro c'è una componente di piacere che dà la volontà il Razón questa fa parte della componente emozionale delle Sefirot quindi c'è la componente intellettuale e poi c'è la componente emozionale che sfocia in quello che ha il concetto di piacere il concetto di piacere fa sì che si catalizza la volontà e quindi io cerco di perseguire una cosa buona da mangiare una spa qualsiasi cosa che mi fa piacere quindi diventa qualcosa di concreto solo quando questo desiderio è sceso nel cuore attraverso lo stimolo della conoscenza della della conoscenza e del sapere quindi e scende lo analizziamo nel cuore e poi lo rimandiamo su questa cosa succede che cominciamo a imparare anche a controllare i nostri pensieri se il nostro il stato emozionale ci manda un segnale di piacere e questo piacere viene digerito dall'intelletto che deve essere interpretato secondo la volontà di Hashem impariamo anche a gestire le emozioni le emozioni piano piano abbiamo degli istinti emozionali questi istinti emozionali vengono filtrati dal pensiero e quindi riguidati in quello che è corretto o non è corretto non viene lasciato il sentimento così a essere selvaggio tra virgolette cosa succede quanto più noi cominciamo a educare il nostro il nostro intelletto e le emozioni su quello che è la volontà di Akalash questa volontà questo sentimento che ci brucia che ci fa sentire le emozioni molto forte per forza di cosa comincerà ad essere allineato con la volontà di Akadosh Baruch insomma quello che ci dà piacere come faccio io a tirar fuori amore e timore per Akadosh Baruch è trovare dentro di me il punto di piacere di amore per Hashem che fa sì che tutta la parte intellettuale e emozionale converge in pensieri che mi portano a parlare di Hashem amare Hashem a fare cose che Hashem vuole quindi ma a sé l'azione quindi come faccio a tirar fuori la demora piano piano ci sta avvicinando a questo concetto come faccio a tirar fuori nella mia vita quotidiana il mio abat mesuteret quello che in realtà salta fuori una volta ogni tanto nei momenti di grandi crisi e cominciare a ragionare del fatto che tutto Akadosh Baruch Hu l'unicità di Akadosh Baruch Hu è tutto Hashem e che e che quindi io voglio allineare le mie emozioni il mio amore quindi anche le mie azioni su quello che è la volontà di Akadosh Baruch Hu e quando io riesco a bruciare l'amore per Akadosh Baruch Hu automaticamente non ho nessun altro tipo di interesse e non c'è bisogno che sia un momento di crisi ma ormai ho allineato i miei vestiti pensieri parole azioni quello che è l'amore per Akadosh Baruch Hu e allora piano piano la mia quotidianità comincerà a prendere una forma in cui l'espressione della volontà di Hashem è presente non faccio quello che voglio io e mi ricordo nei momenti di crisi di Hashem no la volontà di Hashem comincia a rientrare se Dio vuole nella mia quotidianità momento per momento e con questo concludo si va avanti ancora abbiamo finito il capitolo 20 leggiamo l'ultima frase quindi si cominciano prendono forma comincio a dire Odula Shem Kito Toda Rabah eccetera eccetera ma è stato un processo educativo in cui risveglio in realtà qualcosa che ho innato non devo imparare a amare e aver timore di Hashem ce l'ho devo semplicemente inserirlo in quello che è la mia volontà e come faccio ad inserirlo in quello che è la mia volontà inserirlo con quello che è la mia dimensione di piacere e di emozioni auguriamo a tutta Amistrael di ricevere il Masheat che non molto oggi e io dico questa frase poi ieri sera lui diceva vuol dire che diciamo tutti la stessa cosa e che Hashem possa salvare tutti gli staggi e i nostri Fir Ben Shiri Ariel Ben Shiri che tutti i Chayarim possono tornare a casa Shalimim V'Ebrim che Hashem vendica il loro sangue e che ci possa salvare con il Mishim V'Ni Flot e che ognuno di noi possa veramente capire quello che Hashem che vuole da noi il nostro percorso semplicemente riavvicinarsi ad Akash Baruch Hu in ogni piccolo gesto della nostra quotidianità e risvegliare il nostro amore per Hashem e quindi automaticamente si risveglia anche la Vat Israel ci siamo arrivando a Rosh Chodesh Rosh Hashanah la notte Rosh Hashanah della frutta che Hashem ci benedica in abbondanza in questo mondo materiale dove madre terra esprime la forza di Hashem nel creare nel riprodurre che possiamo veramente avere tanto tanto che tutte le donne che cercano di avere dei bambini possono avere bambini in Shlemut che è anche legato alla riprodurre no? e che Hashem ci benedica ovviamente di tutte le berachot come diciamo il Mozzè Shabbat va a Item tutte le berachot che Itzhak ha dato a Esav di scusate che Itzhak ha dato a Yakov che avrebbe voluto Esav e di rivelare il vero bene in questo mondo con con amore per Hashem genuino e che ci viene naturale in grande grande serenità in grande amore in shalom shalom bar shalom baolam ben grazie a tutti